Premio giornalistico d'Arcangelo 2024 a Francesco Mazzotta, musicologo, scrittore, giornalista e critico musicale del Corriere del Mezzogiorno. Il premio è stato consegnato domenica scorsa presso la Fondazione Paolo Grassi a Martina Franca da Michele Punzi, presidente della Fondazione. Il premio ricorre ogni anno dal 1995 in concomitanza del Festival della Valle d'Itria e va al critico chi ha saputo meglio raccontare la manifestazione nella precedente edizione attraverso i suoi articoli e servizi giornalistici. L'albo del premio, dedicato ai giornalisti martinesi Lorenzo d'Arcangelo, motore determinante per la crescita del Festival, e Pasquale d'Arcangelo, per anni capo ufficio stampa della manifestazione, comprende nomi importanti del giornalismo musicale nazionale e internazionale. Un'emozione davvero grande ricevere questo premio per una serie di motivi. Il primo è che qui a Martina Franca sono nato professionalmente, ho incominciato nel 1994 come collaboratore dell'ufficio stampa proprio con Pasquale d'Arcangelo, che è uno dei due intestatari di questo premio. Io non ho avuto l'occasione di conoscere Lorenzo, il papà di Pasquale d'Arcangelo, ma con Pasquale ho avuto tanti anni di collaborazione molto stretta e di un rapporto umano molto forte. E quindi questo premio mi fa particolarmente piacere. E devo dire che per me il Festival della Valle d'Itre è stato sia come collaboratore dell'ufficio stampa, una palestra professionale, ma poi è stata anche una palestra per raccontare la storia di questa manifestazione che appunto compie 50 anni. Io l'ho seguita, ho incominciato a seguirla nel 1992, quindi ho una bella esperienza qui ed è stata una palestra fondamentale, una palestra anche di scrittura. Le occasioni per scrivere in Puglia, per scrivere di lirica sono davvero poche, se si eccettua il Petruzzelli e poi insomma con il Festival della Valle d'Itre da qualche anno ha stabilito una stretta collaborazione con la sua orchestra e con il suo coro. E poi vorrei naturalmente ringraziare tutto lo staff del Festival, vorrei ricordare anche chi non c'è più, a partire dal presidentissimo Franco Punzi, che nel 1994 mi aprì le porte e mi consegnò nelle mani di Pasquale d'Arcangelo. Per cui grazie davvero per questo riconoscimento che per me è molto importante e naturalmente lunga vita al Festival della Valle d'Itre. Il valore di un premio viene dato dal suo albo d'oro. Il premio Lorenzo e Pasquale d'Arcangelo vanta un elenco di premiati che rappresenta il meglio del giornalismo italiano e europeo, un giornalismo musicale degli ultimi 30 anni. Ma è anche il valore dato anche dal nome delle persone a cui è legato, due persone che in periodi storici diversi hanno dato un grande impulso alla crescita e allo sviluppo di questo Festival. Prima Lorenzo d'Arcangelo e poi Pasquale sono state i due anime di questa manifestazione, due di quelle persone che hanno lavorato nell'ombra senza cercare la luce dei riflettori, ma con grande passione e con l'unica finalità di rendere questo territorio culla e presidio culturale. Per noi quest'anno è un grande piacere, nella ricorrenza delle 50 edizioni del Festival della Valle d'Itria, premiare Francesco Mazzotta, firma di punta del Corriere del Mezzogiorno, critico musicale attento e puntuale, ma soprattutto persona autentica, che è fortemente legata alla nostra storia, perché io lo ricordo muovere i suoi primi passi e il nostro piccio stampa. La sua carriera giornalistica poi è proseguita in maniera eccellente e quindi oggi celebriamo un altro momento importante di questo 2024.